Inizialmente sembrava un incidente stradale con omissione di soccorso, ma in realtà si trattava di un tentato omicidio. Con questa accusa un 28enne di Santomero è finito in carcere dopo che lo scorso 27 aprile a Sant'Egidola Vibrata aveva provato a investire per ben sette volte il suo rivale per poi riuscirci, mandandolo in ospedale in fin di vita e con una prognosi di 30 giorni. La vittima, un 39enne residente a Folignano, nel vicino Ascolano, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato investito in maniera accidentale da un'auto che non aveva riconosciuto. Ma grazie alle testimonianze dei residenti, gli inquirenti hanno capito che il ferito stava mentendo, probabilmente per paura. Lui e il suo investitore infatti si conoscevano da tempo ed erano in trattativa per la compravendita di un'auto, per la quale però non si erano accordati sul prezzo. Proprio questo sarebbe stato il motivo che le aveva portate a litigare. Futili motivi che avevano scatenato però una reazione gravissima del 28enne abruzzese, il quale, alle tre di notte di quel 27 aprile, come una furia impazzita, lo aveva inseguito per tutto il paese, fino a quando non era riuscito a metterlo sotto con l'auto, in una strada periferica di Sant'Egidio. Ora i carabinieri hanno chiuso il cerchio, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona.